Quindi adesso io consegno al sindaco Massimo l'attestato, qui ci sono tre simboli, c'è il simbolo del lanci perché noi siamo comunque, anche se affrancati dal lanci, siamo comunque associazioni nazionali comunitariali, poi alla sinistra del nostro logo c'è un simbolino verde che è il simbolo, che è il logo della federazione delle plus beaux villages della terra, ovvero noi sei anni fa abbiamo creato una federazione mondiale, insieme all'inizio eravamo Italia e i francesi, c'erano i belgi, c'era il Canada e c'era il Giappone, attualmente sono entrati la Spagna, il Portogallo, stanno entrando la Cina, la Russia, è entrato il Libano, poveracci, poi ci hanno avuto qualche problema, è entrata la Svizzera, è entrata la Germania, sta entrando la Polonia, quindi sta diventando una federazione veramente a livello planetario e poi c'è la mia firma e quella del Presidente del Lanci. Poi devo mettere la spilla. e poi la bandiera. Però sì, devo fare una cosa. Applausi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.